Adesso chiamo il cameriere e gli dico una cosa buca, eh. Cameriere? Sì? Senta un po', stronzone. Sì, sì, dico a te, merdaccia. Porta dei fagioli alla scoraggione qui per il cesto. Sì, 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 cesto, cesto. Signorina, volevo dire. Va bene, dottore. Simone, cambia espressione. Si vedono andando un miglio che sei un po' il giotto. Sorridi, sorridi. Guarda come ti sei vestito. Non vale lo stronzo.